Gioco orientato su Ornette Coleman, 2,90 alla quota, 150 metri dallo stacco, con il numero 10 di Oiglio Jet che parte un po' arretrato e c'è l'errore per il numero 1, Rihanna Blue. Macchina che va per lasciare i concorrenti con lotta per il comando risolta da occasione Luis che si insedia in prima posizione a precedere il numero 3 di Oromapilasol su Memorock che segue poi più indietro ancora Irton del Rio che precede anche Occhettasco. Si arriva così a metà della piegata con la squalifica del numero 12 Oceania OM e adesso prende la via del largo il numero 3 di Oromapilasol che dopo un primo quarto in poco più di 31 passa al comando davanti alle tribune. All'esterno si fa vedere adesso il numero 11 di Orobianco Stara la cui schiena è presa da Irton del Rio, 45,6 il passaggio ai 600 di corsa, gruppo disposto in pariglie, comandato da Oromai Più Lasol con al fianco Orobianco, poi più indietro occasione Luis che ha all'esterno Irton del Rio. La terza pariglia è formata dal numero 2 Memorock e poi ancora Oiran Pan si arriva così dopo 800 in 1'1,7 al paletto del chilometro che viene sopravanzato in un 1'16,6 abbastanza svelto da parte della testa della corsa. Sempre Oromai Più Lasol al comando, ora si fa vedere in terza corsia Oiran Pan quando siamo ai tre quarti di miglio passati in 1'31 spaccato, 14,4 di frazione con l'attacco di Oiran Pan, 3 in diagonale sull'ultima curva, capeggiati sempre da Oromai Più Lasol con all'esterno ancora Orobianco, l'addirittura d'arrivo, Oromai Più alla corda, Orobianco all'esterno, poi più a largo Irampan, si arriva così a metà addirittura con Orobianco che sta passando, c'è Orobianco ma c'è anche il numero 6 Irampan e nel finale è anche Frippon di Rosa che passa alla fine e viene a concludere nei confronti di Oidio Jet. Venuto a largo sull'ultima curva Frippon di Rosa con Giampolo Minucci è venuto a concludere di spunto 2 minuti e 5 decimi, 1'15 appena abbondante per il media al chilometro, vediamo il numero 8 di Frippon di Rosa che viene a concludere, mentre per il secondo rimane in quota Oidio Jet e per il terzo sono vicinissimi, Orobianco sarà all'interno, Irampan all'esterno, potrebbe essere quello all'interno ma ci rimettiamo al verdetto del giudice di arrivo.